Musica 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 Ciao a tutti ragazzi Siamo Rebby e Molly E benvenuti nel nuovo video Sì Oggi dobbiamo curare i dentini Perchè come vedete io l'apparecchio Come l'apparecchio? E' vero che l'apparecchio Dobbiamo curare i denti Perchè oggi diventeremo dei dentisti Diventeremo dei dottori dei denti Curiamo i denti alle persone Chi di voi è stato dal dentista ultimamente? Quindi ragazzi mi raccomando voi Innanzitutto lasciate un bellissimo like a questo video Ed iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti Molti di voi che guardano i video Non sono iscritti è super importante Iscriversi per non perdervi nessun Fantastico video Allora oh che schifo Guarda Sono così i denti eh Allora Dobbiamo curare questi denti Allora Dobbiamo curare questi denti perchè sono molto carreati Oggi voglio cantare I denti del brain Stai attento senti che rumore Oh sentite silenzio I denti carreati non si devono mangiare Le caramelle e gli zuccheri infilati Si muove la lingua Non è la lingua è l'ugola No dietro la lingua c'è quella rossa è la lingua Signore stia fermo perchè devo pulire i denti Si è vero A me stanno venendo i peli Ok Level completato Io direi Però perchè inizi sempre tu Due livelli a testa Ma perchè inizi sempre tu Allora io vorrei dire che adesso ci ha pagato 60 dollari Ma era questa signora povera No cosa c'ha Oh che schifo la zucca le verruche Ma allora secondo me più livelli facciamo Mettiamo più Mettiamo più Attresti ci danno e più denti possiamo curare Questa mangiati carciofi perchè sicuramente eh Il verdi sono dati dai carciofi dai broccoli Cosa stai dicendo Allora comunque ragazzi È importante lavarsi i denti perchè altrimenti succede questo Volete che Volete diventare così E dopo bisogna andare dal dentista Tu hai paura del dentista Io non ho paura del dentista Io non ho paura del dentista Non bisogna avere paura del dentista Perchè lui in realtà ci fa un favore vero Si fa un favore si Oh nuova sedia Vai tocca a me Si Vai Revi Vai Revi Che schifo Allora per ora livelli abbastanza semplici eh Allora se non lavi i denti succede questa cosa Se non lavi i denti Quindi bisogna lavare i dentini Vai vai bravo Ma che cosa Ma che cosa mangiano questi qua per avere i denti verdi Ma le verdure secondo me Allora i denti verdi Si ho capito le verdure ma E guarda Carciofi, broccoletti Eeeh Guarda che denti splendidi bianchi Ma che hai? 100 dollari per questo? Wow C'è un negozio Il negozio dei denti ragazzi Noi stiamo facendo la pulizia dei denti comunque sia Guarda guarda fra un po' sblocchiamo qualcosa Next Nuova sedia Possiamo sbloccarla al prossimo Nooo Già Nooo Non possiamo prenderla Però secondo me fra un po' cresceremo di livello e possiamo prenderla Sbloccheremo nuovi attrezzi Stiamo facendo un sacco di soldi eh comunque Attenzione ne abbiamo tantissimi Guarda sono velocissima Sono diventata velocissima a pulire questi denti Brava brava Eeeh questo è giallo Lo mio verde è giallo Non ho il pulsante giallo Ah però hai già fatto due volte No 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 Aspetta Adesso Vediamo allora Inizia Che hai? C'ha un buco nel dente Un animale No no non faccio niente Allora prima puliamo tutti i denti perché è il primo step Si Ecco poi guarda Adesso Dobbiamo chiudere il dente Ha un buco in un dente questo qua Aaaaa Gli abbiamo chiuso il dente Però c'è ancora lo spazio tra quei due Non li abbiamo chiusi Ma non è che devi chiuderglielo lo sai così Ma dovevamo chiuderlo Ma non devi chiuderlo Ok Oh oh Aio Nooo Guarda c'ha il buco lì davanti Questa la rebi ragazzi Non è vero I miei dentini sono tutti i miei Perché sono tutti finti Gli amassi di plastica No perché Non è vero I miei dentini Allora da piccola ho dovuto mettere l'apparecchio anche io ragazzi Si l'ho dovuto tenere tanto perché erano un po' storti Adesso sono tutti Guarda che diamo Ma lì invece ha ancora l'apparecchio Non è vero perché io sono stato bravo Si è stato bravo Allora ha visto che vuoi parlare Continua a parlare Io gioco La sedia che non possiamo prendere perché non guardiamo le pubblicità Però guarda possiamo arrivare lassù e fare un upgrade Ok vai Oh qui c'è Un dente d'oro Un dente d'oro Un dente d'oro C'è un dente d'oro Avevi ragione più avanti andiamo più cosa abbiamo dato L'ho detto io che c'è dente d'oro Guarda Vai chiudi lì il buco Attenzione chiudiamo il buco Si Vuole un dente d'oro Vuole un dente d'oro Vuole un dente d'oro Quello Ma perché un dente d'oro L'arri bellissimo Ci piace Ok appena arriviamo lassù c'è la scoperta Dello studio eh No c'era un puntino Aspetta Devo fare velocissimo questo livello Perché avevo visto che c'era una notifica No no lì tocca a me dopo eh No 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 Fermo fermo Guarda cosa c'è quassù Possiamo comprare qualcosa Compriamo un nuovo dente Un nuovo dente Un nuovo dente Eeeeeee Forse anche qualcosa Ridi smetti di ridere Allora non possiamo sbloccare più niente Allora negozio quindi Abbiamo già comprato tutto quello che potevamo comprare Perché non ti fidi di me Perché non mi fido Next Next level Fra un po' abbiamo un regalo Tagli ste mani Ok Ah Continuiamo a pulire i denti Anche questo signore Basta Rebbi ma sei dispettosa oggi eh Basta Dai Molly pulisci quei denti forza Allora qua chiudiamo questo dente Ma con cosa glielo chiudi il dente? Sembra che gli hai metti la panna montata Ma infatti i denti si chiudono con la panna montata Ma non è vero È vero La panna montata li fa solo carriare Guarda no 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 Ah vabbè non te ne sei accorto vuol dire che lo farò io dopo No Allora Questo qui Basta Questo qui vuole i denti d'oro Ma volete tutti sti denti d'oro Guarda come sono veloce Allora glieli faccio tutti qua sotto Uno Oh Uno Ah vuole questi pro Oh E' come quelli nuovi I denti delle caramelle vuole Bellissimi Hai visto che roba? Vabbè fantastico Belli No Allora posso vedere cosa No Ma hai già fatto due livelli Allora possiamo sbloccare questo Vai Unlock Vediamo Oh Cosa è? Che cosa sono? Oh non lo so Lo vedremo nel prossimo video Che tocca a me? Nooo Il prossimo livello si vince anche un regalo Oh C'è un regalo Apriamo Che cos'è? Upgrade dello studio era Il cassettino Vai Bellissimo Wow Wow che upgrade Oh Bonus level Bonus level a lei ovviamente Ma cosa vuol dire bonus level? Ma cos'è? Non ho capito Ah ma ho capito Hai capito cosa sono? Ah Perché noi li abbiamo sbloccato In pratica questo No ho sbagliato Erano i diamanti Erano i diamanti Si In pratica erano i diamanti Ma noi abbiamo sbloccato i diamanti colorati Le gemme Le gemme abbiamo sbloccato Le gemme Bellissime le gemme Comunque questi occhiali che ho messo Mi stanno facendo vedere tutti i denti verdi E quindi li vedo tutti verdi adesso Non più solo uno o due Ok brava chiudi i denti Attenzione chiudiamo la penna montata Ma come fa? Come si fanno a bucare i denti così? Eh con le carie Se tu non ti lavi i denti Se non ti lavi spesso i denti Ti vengono le carie Si ma dei buchi così E se non vai dal dentista Dopo ti si cariano i denti Wow grazie per la lezione non lo sapevamo E poi ti cadono Non lo sapevamo Grazie Rebi Eh tu hai detto che non lo sapevi Oh però tocca a me Cosa stai dicendo? Rebi tocca a me però Tocca a me Tocca a me Ma stai sente se gli lavi i denti basta mangiare i broccoli No stai sente non si lava i denti No i broccoli fanno bene Ma mangierà le cacco le mangia Che schifo Molly potevi anche evitare di specificare queste cose Andiamo avanti Ok uno Ma dov'è l'altro? Ok due Ok tre Ok No no bella di mamma Fermo fermo C'è qualcosa forse? No non c'è niente Ok dobbiamo controllare Basta Questi ciali sono troppo grossi Ok i denti che non possiamo prendere Perché non guardiamo la pubblicità Però li sblocchiamo tra un po' eh Ok livello 14 Li sblocchiamo tra un po' Mamma mia Sono sempre più sporchi sti denti comunque eh Anche questo signore vuole il dente d'oro Dente d'oro? Oh guarda che schifo No vabbè Molly ma ho capito adesso Eh Guarda quella faccina Lì a sinistra Si riempie sempre di più Perché se tu gli fai male Finisce il livello Se quella faccina si riempie Uh è vero perdiamo Attenzione non gli puoi fare male Ok Denti di caramelle Wow No qui non gli passo male Li pitturo solo i denti Devi pitturare Ancora? Ancora un po' Ancora un po' Ancora un po' Ci siamo Ottimo lavoro Molly Ma perché la gente vuole i denti di caramelle? Eh non lo so Che cavolo Ok vediamo possiamo sbloccare un nuovo tipo di dente Il dente rosa Vediamo No vabbè il dente rosa Ti prego il dente rosa Cos'è sta roba? Era bello il dente delle faccine È vero Però anche quello rosa mi piace Ultimo livello Vai dobbiamo fare un sacco di soldi facendo Curando tutti i denti perché io voglio prendere il dente rosa Tutti i denti del mondo Dente rosa dente rosa dente rosa Ah ma adesso lo vediamo il dente rosa Lo vediamo davvero Attenzione Sei pronta? Vai Ah no questo non è il dente rosa Era quello che abbiamo vinto adesso Ma che schifo Ma chi vuole un dente nero? Ma no ma perché i denti neri? Ma io non capisco perché questi qui vogliono dei denti neri E infatti sono un po' strani questi tipi Denti carbone Dente nero Dente nero Ciao